Fabio Ferrara e Ludovica Valli, una delle coppie più seguite di Uomini e Donne, di recente hanno partecipato al programma televisivo Temptation Island. Nel corso del reality show, giunto alla sua terza edizione, i due hanno dovuto superare una serie di ostacoli di coppia. Come visto nel corso delle puntate del programma è andato in onda su Canale 5, infatti, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne Fabio Ferrara si è messo alla prova costruendo il suo percorso con la tentatrice Francesca Serra. Nonostante questa avventura, tra Fabio Ferrara e Ludovica Valli sembra andare a gonfie vele. Concluso Temptation Island la coppia nata dalla trasmissione condotta da Maria De Filippi ha utilizzato il social network per diffondere un filmato in cui rivelano i fan la loro attuale situazione sentimentale. A differenza delle altre coppie che hanno partecipato al reality show condotto da Filippo Bisciglia, Ludovica Valli e Fabio Ferrara sono stati qualche giorno senza postare alcun contenuto né su Facebook né su Instagram, un silenzio che ha fatto preoccupare i fan che hanno temuto una rottura tra i due. Ieri però, dopo alcuni giorni di silenzio, sui profili social di Ludovica Valli e Fabio Ferrara è stato caricato un video della durata di circa un minuto in cui la coppia ringrazia tutti i sostenitori e tra un bacio ed una carezza dimostrano il grande amore che li lega. Volevamo ringraziarvi per tutto quello che avete fatto per noi in questi mesi, per aver condiviso con noi gioie e piccole sofferenze. Chi se ne frega!